L'ultima novità del marketing o all'inseguimento dell'ultima novità. Oggi volevo parlare di quello che è successo, ovvero è uscito un nuovo strumento che stravolgerà completamente il vostro business, vi cambierà davvero la vita. Ovviamente sto dicendo una gran cavolata, ma è quello che si vede spessissimo nei post su Facebook, nei video, su YouTube, su Instagram. È pieno di persone che raccontano di come è uscito il nuovo strumento che vi permetterà di cambiare la vita. Il problema è che stiamo parlando solamente di strumento, ma, piccola parentesi, sto parlando di marketing, ovviamente, e gli strumenti sono una piccola parte di tutto il nostro modello di business e tutto il nostro modello di marketing. Per cui cercare in uno strumento, in un singolo strumento, la rivoluzione completa è praticamente impossibile, non esiste. È come dire, prendo una panda e gli monto i copertoni di una Ferrari. Benissimo, cosa cambierà mai? Avrete sicuramente più tenuta di strada, certo, ma quindi non è il singolo strumento a migliorare l'intera performance. Per cui, ok, provare strumenti nuovi, cercarne di migliori. Ovviamente, se abbiamo delle gomme che hanno più aderenza rispetto a delle gomme usurate e consumate che, appena fai una curva, ti manda la macchina fuori strada, è sicuramente meglio. Ma se le tue ruote, tutto sommato, hanno una discreta tenuta di strada, riuscire a migliorarle in una maniera esagerata non ti daranno la svolta. Perché è l'insieme di tutti i passaggi del tuo marketing che si trasformeranno in una squadra vincente, in questo caso in una macchina. Quindi, se noi abbiamo un'auto con delle gomme da paura, un'aerodinamica spaziale, un motore potentissimo e non so cos'altro, allora sicuramente avremo una macchina performante. Ma se noi, ripeto, prendiamo una panda con le ruote sgonfie e gli montiamo il motore di una Ferrari, non sarà una buona macchina. Avrà sempre dei problemi. E quando ci lanciamo da uno strumento all'altro, cercando quello che ci cambierà la vita, non stiamo migliorando la nostra situazione. Perché, punto numero uno, a volte le attività, è strano da dirsi, ma sono come delle macchine senza dei pezzi. Quindi se voi avete un'auto senza ruote, probabilmente qualche problema c'è. O se avete un'auto senza volante, stessa cosa. Secondo punto, mettere un prodotto che è il migliore del mondo e lasciare gli altri che fanno schifo non ci migliorerà la vita in ogni caso. Quindi dobbiamo sistemare tutti i passaggi, tutti i pezzi del nostro marketing e a quel punto inizieremo a vedere dei risultati in maniera concreta. Ma finché rimaniamo concentrati sullo strumento che ci cambierà la vita, ti assicuro che stiamo sbagliando qualcosa. Quello che devi fare è rendere perfetto il tuo marketing, il tuo modello di business, quindi tutta la tua struttura con gli strumenti che hai già a disposizione. Se poi capiterà uno strumento che è davvero eccezionale, perfetto, andrai ad integrarlo all'interno del tuo sistema e avrai modo di valutare se effettivamente ti porta questi grandi risultati oppure se, come spesso succede, la differenza non è così grande. Quindi oggi chiediti questo, com'è la tua struttura al momento? È piena di pezzi scadenti oppure è già incredibilmente performante? Oh, come vedo fare in alcuni casi, hai una Ferrari però magari gli manca il motore oppure ha delle ruote veramente scandalose. In quel caso devi cercare di sistemare subito il pezzo del tuo tallone da kill perché sarà molto veloce riuscire a sistemare il tutto e fare ripartire gli ingranaggi. Però è importante questo, smetti di cercare lo strumento magico e inizia ad assemblare tutti i vari pezzi perché il successo della tua attività dipende proprio dall'insieme di questi elementi. Con questo è tutto davvero, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se non sei ancora iscritto alle mie pillole di business via mail fallo subito e tutte le mattine alle 7 riceverai una mail che ti darà qualche spunto di riflessione per affrontare la giornata. Ci si iscrive in pochi minuti e gratis ci si cancella con un click per cui pilloledibusiness.com e iscriviti alle mie pillole. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!